La sovrintendenza ha bloccato la vendita di parte di via Colonna a Porto Venere ma l'amministrazione comunale 22 dicembre scorso del 2020 aveva invece approvato questa vendita. Inoltre è stata mandata all'UNESCO una lettera di 21 associazioni e comitati della provincia Spezzina. Qual è la vicenda? Sì, per quello che riguarda la sovrintendenza è stata comunicata che la vendita non è per ora possibile perché non è stata ancora avviata la verifica di interesse storico-culturale che solamente attraverso quella si potrà decidere poi se il bene è alienabile o meno. Addirittura nella lettera che la sovrintendenza ha mandato si fa presente che se ci fosse un interesse archeologico addirittura questo comporterebbe la non alienazione to cure del bene. Quindi noi confidiamo che si proceda con questa verifica di interesse storico-culturale, secondo noi ci sono i presupposti perché questo venga giudicato positivamente, però per ora la vendita di questo pezzo di Piazza Spalanzani e di Via Colonna non è possibile. Per quello che riguarda invece la lettera all'UNESCO, noi abbiamo evidenziato 21 associazioni hanno scritto all'UNESCO, alle sue articolazioni, ai suoi comitati che sono presenti in Europa e in Italia. Abbiamo scritto per far presente la situazione perché non ci dobbiamo dimenticare che Porto Venere, Piazza San Pietro e le zone limitrofe sono state giudicate patrimonio mondiale dell'umanità. Questo è stato fatto dall'UNESCO e l'UNESCO deve essere messo in formato su quello che sta avvenendo. Ecco, il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani in un'intervista rilasciata a Città della Spezia ha detto che è stata posta la domanda sbagliata alla soprintendenza perché si parla di procedimento di vendita del bene ma che il comune non ha mai avviato nessun atto di alienazione. Che cosa può commentare lei a proposito? Che mi pare che il sindaco giochi con le parole perché è vero che non è stato avviato un atto di vendita specifico, però la posizione di piazza e della strada è stata inserita da parte del comune, del consiglio comunale del 22 di dicembre scorso tra le possibili alienazioni che il comune stesso potrà portare avanti. Quindi la domanda che noi ci facciamo è per quale motivo, se il sindaco non aveva ancora avuto l'autorizzazione da parte della soprintendenza a giudicare questi beni alienabili per quale motivo li ha voluti inserire a tutti i costi in questa lista sapendo anche che parti della sua maggioranza non sono d'accordo con questo atto.